L'evolvere di Bitcoin tra sfide regolamentari ed ambientali Bitcoin, la criptovaluta pionieristica, sta navigando in un complesso scenario di ostacoli regolamentari, questioni di sicurezza e preoccupazioni ambientali mentre evolve. La valuta digitale, che ha iniziato il suo viaggio con la pubblicazione del white paper di Satoshi Nakamoto nel 2008, ha fatto molta strada, offrendo sicurezza criptografica e accessibilità globale con una fornitura limitata di 21 milioni di monete. La natura decentralizzata di Bitcoin è stata a doppio taglio. Da un lato, offre inclusione finanziaria per le popolazioni non bancarizzate e resiste alla manipolazione governativa. Dall'altro, presenta vulnerabilità che richiedono l'adattamento dei codici fiscali per gli asset digitali e il miglioramento della sicurezza dei portafogli. Nonostante il suo potenziale come investimento alternativo e fornitore di servizi finanziari per coloro che non hanno accesso alle banche tradizionali, la volatilità del prezzo di Bitcoin rimane un argomento di discussione riguardo alla sua idoneità come valuta mainstream. Innovazioni come le piattaforme DeFi, gli NFT sulla blockchain di Ethereum e soluzioni di scalabilità come Lightning Network continuano a contribuire alla sua evoluzione. Le piattaforme di trading online sono diventate fonti importanti di informazioni di mercato per i trader di Bitcoin. Evidenziano la necessità di un continuo sviluppo in settori come le pratiche di Mining e Verde e per affrontare le preoccupazioni ambientali legate all'impronta di carbonio di Bitcoin. Queste pratiche mirano a ridurre il processo intensivo in termini di energia del Mining di Bitcoin, criticato per il suo contributo al riscaldamento globale. Mentre Bitcoin prosegue, la comunità crittografica è concentrata nel superare queste sfide. La chiarezza regolamentare e misure di sicurezza migliorate sono viste come elementi chiave per la crescita continua e l'accettazione di Bitcoin nel mondo finanziario. La discussione sul futuro di Bitcoin si sta evolvendo dinamicamente, riflettendo il suo iniziale nel ridefinire il nostro modo di concepire denaro e finanza.